480 incidenti stradali di cui 279 con lesioni, 8 mortali e 193 consolidani ai mezzi. Sono questi i dati aggiornati e poco rassicuranti forniti dalla Polizia Stradale di Cremona per un arco di tempo che va dall'inizio del 2019 fino al 31 ottobre scorso riguardo al nostro territorio. Dati preoccupanti dicevamo soprattutto se rapportati alle cause, abuso di alcol, uso di droga, velocità, uso del cellulare senza auricolare, cinture non allacciate e il non corretto uso dei seggiolini. Cause che acuiscono la gravità del fenomeno soprattutto per le conseguenze che spesso vedono coinvolti anche i bambini. Per questo l'impegno della Polizia Stradale di Cremona è costante e passa anche dalla formazione nelle scuole e da controlli costanti su tutto il territorio perché questi dati presto possano cambiare in modo sensibile, in senso positivo, grazie ad una auspicabile nuova consapevolezza dei cittadini.